31 ottobre, oggi è il giorno dell'operazione del neo che ho dietro al collo prima volta in assoluto che mi tolgono un neo, infatti adesso sono le 8 di mattina devo andare a fare lo shampoo perché non posso poi lavare i capelli o comunque umidire la zona per qualche giorno successivo appunto l'operazione nel mentre mi sto facendo scaldare il latte per fare una cialatte e quindi niente per quanto riguarda la storia dei nei è una cosa abbastanza genetica cioè nel senso o sei in famiglia in cui ne hanno tanti tutti o pochi nel mio caso dal lato di mia madre ci sono molti nei questo qua in realtà non penso di averlo sempre avuto anche perché essendo dietro lo vedo raramente ma no, non mi sembra di averlo mai visto prima di qualche anno fa e quindi niente, mi ero decisa un annetto fa di andare a fare un controllo dei nei per sicurezza dato che comunque ne ho anche altri parecchi non è bellissimo nel senso che non è standard diciamo non ha i bordi per forza netti e bicoloreste così qui ma la dermatologa mi ha detto in sé per sé per come adesso non penso che sia cancerogeno ma per evitare di dover venire tutti sei mesi un anno a fare un controllo tanto vale che lo togliamo e quindi niente l'operazione si farà semplicemente dalla dermatologa quindi il cabine che ha la dermatologa mi ha detto anestesia locale e poi niente lo toglierà immaginando tutta la grandezza metterà due o tre punti massimo sarà da analizzare perché in ogni caso ogni volta che ti operano e ti orgono cose fanno analizzare il tutto però non mi ha allarmata mi ha detto è uguale alla prima volta in cui l'ho visto allora operazione andata più paura e stress che dolore come si dice qua ovviamente sono iparrossa perché ero stressatina ho un cerotto gigante mi ha messo due o tre punti ho potuto vedere il mio bellissimo bruttissimo ne ho intrappolato nel bicchierino e quindi niente sarà inviato a far analizzare i punti e poi sono da far togliere da un'infermiera ci troviamo quindi il 21 ottobre sono passate tre settimane dall'operazione al neo ho aspettato un po' in modo da avere un po' più di tempo trascorso vedere come andava la cicatrizzazione i risultati anche della biopsia così almeno facciamo un punto conclusivo su tutto il giorno dell'operazione mi avevano fatto appunto un'anestesia locale quindi ero davvero stata punta lì tutta attorno appunto del neo in modo da addormentare la zona la cosa è stata molto veloce ci ho messo praticamente uno, due, tre minuti massimo non è stato appunto doloroso perché c'era l'anestesia è stato comunque un po' strano penso anche un po' lo stress della prima volta e il fatto che la zona fosse proprio dietro la testa, il collo sentivo che si trafficava qualcosa ma non ho avuto assolutamente male nel mio caso ho avuto tre punti perché era comunque un po' grandicellino il neo e bisognava per forza cucire perché altrimenti non si sarebbe richiuso e sono stati appunto dei punti come dico io no, all'antica quindi proprio uno a uno alla mano con non il filo che si scioglie ma quello che poi si deve andare a rimuovere i giorni successivi non ho avuto problemi non ho avuto dolori non ho avuto neanche la sensazione di grattare perché mi hanno detto che magari tra che fa la crosticina e il filo che può dar fastidio non ho avuto questo tipo di problema ho ottenuto il cerotto il più possibile ce lo cambiavo una volta al giorno mettendo uno spray disinfettante ma preferivo appunto metterlo perché mi ero resa conto che quando non mettevo il cerotto apposito il filo mi dava fastidio proprio a livello di beh si prendeva tre capelli tra le cose quindi il fatto di avere una copertura almeno mi assicurava di non avere questo piccolo fastidio dato dai punti in sé per sé punti che sono poi stati rimossi due settimane dopo io l'ho fatto dalla mia dottoressa quindi immagino che forse anche in Italia si possa fare dal proprio medico di base e quindi mi ha tolto un punto uno alla volta mi ha detto guardi la cicatrice è bella pulita tra l'altro la zona anche non è una zona diciamo in cui si vede molto soprattutto quando hai capelli sciolti c'è tutto quanto coperto l'unica cosa essendo una cicatrice è da fare un po' attenzione tipo alle esposizioni solari e tutte queste cose qui quindi in ogni caso da proteggere sempre un po' dal sole con la protezione solare e mi ha dato una crema in più da mettere che appunto è una crema che aiuta un po' le cicatrizzazioni che non metto onestamente tutto il tempo ma ogni tanto perché non ne sento il bisogno e sento che la pelle risponde bene provo a farvi vedere un attimino la situazione se si nota e alla fine rimane sì una cicatrice ma neanche troppo grande quindi onestamente non mi dà fastidio la cosa anche ottima è che ho ricevuto il risultato dell'istiologico e non c'è nulla di cattivo maligno nel neopunto è stato più che altro rimosso in misura un po' preventiva per evitarmi anche di andare a fare ogni sei mesi un esame per essere sicuri che non ci sia nulla di male quindi sotto quel punto di vista non ero stressata ma ammette ovviamente che preferisco non averlo piuttosto che stare lì a dirmi ogni sei mesi controllo perché non si sa mai è stata una prima esperienza di rimozione di un neo molto positiva e onestamente sì se all'avvenire mi dicesse di nuovo la mia dermatologa guarda nel caso non si sa mai togliamo perché è meglio così per prevenire le darei ovviamente carta bianca e le farei fiducia cosa anche molto importante se siete delle persone che hanno molti nei il consiglio è sempre quello di andare a fare un esame e per questo affidarvi a dei buoni dermatologi non quelli che così alla veloce danno un'occhiata e poi basta ma davvero a professionisti che prendono a cuore e sul serio il loro mestiere ci sono anche dottori che vanno a guardare tra le dita dei piedi tra le dita delle mani davvero anche nelle parti genitali ovviamente sul cranio cosa che magari non è scontata se non avete i capelli rasati magari non ci pensano e non ci pensate un professionista che fa bene nel suo lavoro lo fa bene da A a Z soprattutto in questi casi quindi affidatevi a un buon dermatologo se vi chiede di esaminare tutto il vostro corpo fatevi esaminare tutto quanto il vostro corpo non stare lì a dirsi ma mi vergogno perché la zona eccetera no e per la salute lo si fa punto e basta prendetevi cura di voi stessi penso che una delle prime cose sia appunto iniziare a fare gli esami quando si deve e questo vale un po' per tutto che sia per i controlli dei nei la mappatura eccetera o per quanto riguarda altri tipi di esami noi ci vediamo a più presto alla prossima ciao ciao